Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a un nuovo video dell'Impero delle Tenebre. Questa volta faremo l'unboxing di un altro SD Gundam World Sangoku Suketsuden dedicato appunto ai Gundam in versione Romanzo dei Tre Regni. Si tratta di Da Quiao in versione Gundam Artemide oppure Xiao Quiao, scusate la pronuncia, G.N. Archer. La cosa particolare di questo set appunto è che come fa capire il nome i due personaggi in realtà sono molto simili tra di loro anche i Gundam e quindi si spera, o meglio io speravo, che fossero una versione chiamiamola trasformabile. Invece no, perché anche nella storia sono praticamente due sorelle che combattono insieme. Infatti qua c'è anche il fumettino che fa vedere la loro lotta contro Diao Chan ed in pratica il contenuto della scatola serve per creare una o l'altra versione. Infatti le istruzioni sono pressoché uniche ma ci sono delle piccole differenze a seconda di chi si vuole creare. Infatti gran parte del modello è lo stesso ma cambiano un paio di pezzi tipo F2 al posto di E3 oppure diciamo il bacino che è letteralmente al contrario con la veste lunga davanti oppure dietro. Questo fa sì che questi pezzi No, non ci vuole stare. Questi pezzi che adesso andiamo a vedere sono sufficienti per una sola delle due versioni. Qua ci sono un po' di sticker belli metallizzati L'arma è particolare anche questa può essere montata in due versioni Il corpo è quello degli SD Sangoku Soketsuden solamente in versione femminile che è lievemente diverso o meglio molto diverso, completamente diverso da quello dei classici frame dei Gundam maschili per così dire Altre plastiche sono dorate in versione gloss e gran parte diciamo appunto della testa in realtà anche delle braccia e delle gambe sono le stesse Infatti questa cosa un po' mi ha irritato perché sì in fondo ne avrei esposta solo una se fosse stata trasformabile ma in realtà non è possibile diciamo intercambiare i pezzi facilmente si rischia di romperli perché alcuni si devono fissare per così dire bene perciò l'unica soluzione è comprare un altro infatti avendone due posso fare tutti e due personaggi questa cosa questa cosa all'inizio appunto mi turbava un po' soprattutto per la spesa ma in realtà questi Gumpla questi piccoli SD costano poco perciò si può appunto prenderli entrambi per fare anche il diorama con tutti e due i personaggi quindi le istruzioni sono le stesse si cambia solamente un paio di pezzi che poi avanzano alcuni per il torace e per la testa che appunto hanno due forme levemente diverse braccio e gambe sono uguali e poi il bacino appunto viene montato letteralmente al contrario per i due modelli anche l'arma in sé diciamo è più o meno la stessa però si può montare in versione diciamo mitragliatroge gatling gun oppure ascia virtualmente all'interno del tamburo si può sganciare si possono tenere i pezzi che non vengono utilizzati però appunto per esporle entrambe visto che sono concettualmente due personaggi diversi tanto vale prenderne due infatti se come altri sd fosse dato semplicemente il replace dei pezzi per trasformarla ne avrei tenuta una sola invece sono due personaggi che stranamente bandai ha commercializzato in un solo kit non è strano infatti che esistano degli zaku o alcuni diciamo gm che sono double version si possono montare con un paio di pezzi diversi proprio per farne due però si compra appunto due volte lo stesso kit perché non si possono intercambiare e questo come anche il dom e il rick dom queste invece almeno la spesa è contenuta e me ne sono presi due i pezzi in sé sono carini come al solito mi piacciono le clear parts e proprio per questo da staccare e riattaccare ogni volta mi dava un po' fastidio che si rovinassero magari così eccoli qua bisogna averne due si possono così creare tutti e due i personaggi si può fare anche un piccolo diorama appunto e ciò non è affatto male la cosa carina è che questa serie mi sta piacendo davvero molto si tratta appunto di una serie di SD molto economica che paradossalmente si trova più facilmente qua in Italia che non di importazione giapponese proprio perché sono come avrò ripetuto mille volte made in Cina perché sono fatti su licenza appunto direttamente in Cina e non in Giappone è una cosa particolare per i Gunpla soprattutto appunto perché Bandai si è sempre vantata del made in Japan e quindi la qualità comunque non ne risente si tratta di easy kit che si possono appunto montare quasi senza trezzi perché gli spruano i gate che si staccano facilmente appunto con la sola pressione delle mani c'è la possibilità in alcuni appunto di trasformarli agganciarli tra di loro la versione nuova di Kao Kao può montare tutte le armi diciamo dei suoi sottoposti mentre questa è una versione appunto con due personaggi in un'unica confezione spero quindi anche di avervi tolto il dubbio se dentro la confezione ci sono due personaggi o se è lo stesso che si trasforma perché io all'inizio ce l'avevo questo dubbio e paradossalmente me lo sono tolto nel peggiore dei modi scoprendo appunto che non era come credevo perché le immagini pubblicitarie e anche le descrizioni parlano appunto di due personaggi nella confezione ma in realtà se ne può montare solo uno quindi per averne entrambi siete come me costretti a comprarne due copie detto ciò però non è un dispiacere e quindi spero che seguiate ancora il blog imperodeletenebre punto blogspot punto com così potrete vedere tra un po' la costruzione diciamo appunto l'unboxing effettivo e la la recensione di questi due piccoli modellini in un'unica recensione perché non mi sembra il caso di farne due per quello che sostanzialmente è un modello solo comunque detto ciò vi saluto e ci vediamo al prossimo video ciao a tutti ciao a tutti